Allora, Claudio Orcioni, il regalo d'autore si attesta come grande successo della Capitale, uno tra i migliori in assoluto prima delle vacanze natalizie. Intanto quali sono gli elementi e gli ingredienti di questo successo? Questo successo è perché innanzitutto presentiamo prodotti di qualità, per il 90% dei prodotti che sono questa sera sono prodotti italiani. Abbiamo un anteprima, una presentazione di vini russi e ungherizi di grande qualità e nei distillati presentiamo un rum molto esclusivo, molto invecchiato, che è un rum di Guatemala che oggi è uno dei più richiesti del mercato. Poi sono tutte le confezioni preparate dalle enoteche romane, che sono confezioni personalizzate, non massificate, con prodotti molto ricercati. Abbiamo anche degli artigiani che stanno lavorando qui dal vivo e presentano le loro preziosità, che sono cose insolite, che si prestano molto per un regalo un po' selezionato, che può fare la cosa banale o quantificata o la cosa super banalizzata. Ecco, infatti al di là, lo diciamo proprio a favore di botteghiamo e quindi anche di regalo d'autore, a differenza dei soliti mercatini, qui si trova veramente la qualità, l'eccellenza assoluta. Tant'è che è nato un vero e proprio sodalizio con l'Ungheria, ospite d'onore. Perché Claudio, proprio l'Ungheria? Abbiamo scelto, abbiamo un discorso di prodotti internazionali, sempre nella nostra manifestazione. Ormai Francia, così, sono sempre molto conosciuti. L'Ungheria ha dei grandissimi vini che risaltano la tradizione austro-ungarica, che sono stati un po' dimenticati. Per esempio il Tokai è un vino da fine pasto, da dessert, da binare con formaggi, con foie gras, che è ottimo. Nella nostra ricerca di eccellenze hanno inserito questa Ungheria, anche perché una volta che sono stati in Ungheria, in una cantina, ho scovato delle bottiglie degli anni 30, degli anni 20, è ancora perfetta, l'ho acquizzata e quindi sono rimasto un po' legato a questa chicca e ho voluto ripresentarla questa volta. Per Claudio Orcioni, lo sapete bene, il viaggio è sempre legato allo scoprire delle cose inedite a livello di gastronomia, di eccellenza e soprattutto di enologia. Claudio Orcioni, il tuo personale augurio per Botteghiamo per un grande successo, ma soprattutto a chi ci segue. E intanto un consiglio per il 2017, sempre guardando proprio dal punto di vista della qualità e dell'eccellenza. Per la qualità e l'eccellenza un invito ai consumatori di continuare a servirsi dei negozi tradizionali perché c'è sempre dietro una persona esperta che può dare i consigli. E poi vorrei fare un richiamo alle autorità di questa città che si sta spegnendo, quindi c'è un bisogno di fare sistema, lavorare con le associazioni per fare un discorso del Natale romano, un evento internazionale in modo che la gente non va a comprare regali all'estero come sta facendo. Splendido, grazie Claudio.